Carissimi amici e amiche, bentornati ad una nuova puntata del ciclo di Catechesi dedicato a Teneramata, puntata numero 32. Presumibilmente qui è una notizia non molto lieta, ma potrebbe essere la penultima, perché siamo quasi arrivati al termine, forse oggi sentiremo già il termine della storia, salvo poi andare a vedere l'epilogo e qualche ultima considerazione conclusiva su questo viaggio nella quinta dimensione che ci ha fatto fare questo testo, questa rivelazione avvincente, anche se certamente con degli elementi potremmo definirli al momento problematici, in quanto non ancora per ora facenti parte del Magistero della Chiesa, quindi come sappiamo, lo ribadisco ogni tanto perché va sempre bene, questi cicli di Catechesi diciamo così un po' sul mistico, nel senso che approfondiscono, elaborano, studiano di fatto una rivelazione privata, è quanto diciamo così di più accessorio e libero possa esistere, nel senso che c'è assoluta libertà di dare o non dare credito, no? È chiaro che occupandomene non me occuperei se non le ritenessi verosimili, attendibili, ma questo, ripeto, investo è un campo, siamo nel campo dell'opinabile, quindi non c'è assolutamente nessun problema. Questo sempre per mettere un po' le mani avanti perché insomma a volte potrebbe non essere molto chiaro, non si presentano queste affermazioni come dogmi di fede, ovviamente, non mi prometterei mai. Allora, ci siamo lasciati la volta scorsa con un termine aperto, diciamo così, perché l'amata stava esortando Riccardo a cercare di impegnarsi il più possibile per andare il più in alto possibile di fatti in paradiso. E fa comprendere anche, qui siamo alla vigilia della cosiddetta festa della Divina Misericordia, festa molto bella, ma da vivere bene. Ecco, come dirò sicuramente in una delle, come dire, che farò un concetto falsato di misericordia, serva a riempire l'inferno, una volta scorsa ci siamo lasciati con i grandi peccatori che a un certo punto si pentono di vero cuore e il nostro Dio li perdona. Però nel cielo non danno all'altissimo tutta la lode di gloria che gli si attendeva da loro e non raggiungono una grande felicità, ma come tenere amata stessa, una felicità inferiore. Quando sarebbe stato tanto facile ottenere una maggior gloria? Su queste cose, cioè ci sono evidentemente anche in questo testo alcune affermazioni come questa, questa è perfettamente conforme con la dottrina della Chiesa, quindi questa si può sottoscrivere senza tema assoluta, anzi si deve sottoscrivere. Quindi non ci si croggioli sulla misericordia e su queste cose, noi abbiamo un tempo di vita limitato, le nostre giornate devono essere stracolme di opere buone e di opere sante, perché non avremo poi il tempo di compierle. Il grado di gloria che raggiungiamo al momento della morte corporale non aumenta neanche di un millimetro. Non è che se tu ti fai 500 anni di purgatorio, ti ammazza 500 anni di purgatorio, ho sofferto. Sono tutte quante sofferenze sterile. Se ti fai 500 giorni di penitenza qui è un altro discorso. 500 anni di penitenza è un po' difficile nella vita terrena, no? Ecco, però queste cose teniamole ben presenti. Allora, ci siamo quindi lasciati in questo modo e Riccardo, riprendo la lettura del testo, formula un'ulteriore domanda. Qual è la via diritta per ottenere la massima beatitudine? Via diritta per la massima beatitudine. Allora, è qui. Piccola lezioncina di come si va in alto in paradiso. Rispondetene l'amata. Compiere sempre i comandamenti e i consigli divini, che non sono capricci del Signore, ma corrispondono invece a ciò che ti è più conveniente sulla terra e nel cielo. I consigli. Nel Vangelo Gesù dà tanti consigli. Che cos'è un consiglio? Il consiglio, perché è un'opera di perfezione. Per esempio ci sono i più famosi, sono i consigli evangelici e di cui fanno professione i religiosi, no? Che siamo obbligati ad essere poveri? No. Siamo obbligati a sottometterci all'obbedienza a qualcuno fuori dei casi in cui siamo, ovviamente in base alla legge della Chiesa, canonicamente tenuti a farlo o anche, non solo canonicamente, anche cristianamente tenuti a farlo? No. Siamo obbligati a vivere in castità perfetta? No. Che significa? Significa che se io non sono povero non pecco. Se io non vivo in castità perfetta, cioè mi sposo, non pecco. E se io non mi sottometto volontariamente in cose non prescritte all'obbedienza di qualcun altro, non pecco. Perché c'ho la mia libertà e ci faccio quello che mi paga. Entro l'ambito ovviamente dei dieci comandamenti. Quante esortazioni però dà anche Gesù, anche nel Vangelo. Prendete ciò che avete, date la neremosina, non angustiatevi per la vostra vita, di quello che mangerete, di quello che berrete, di come vestirete. Quindi sono consigli. Un consiglio è proprio, è una pratica di perfezione, no? Da cui poteria l'imperfezione. Se io non metto in pratica un consiglio, perdo delle grazie. Perché l'imperfezione, sapete, facciamo ogni tanto un po' di ripasso, un po' di ascetica, no? La grazia in noi non è una realtà stabile. Quindi che è data e rimane sempre uguale. La grazia cresce, la grazia diminuisce, oppure si perde. Catechismo, no? La grazia si perde col peccato mortale. La grazia diminuisce col peccato veniale. Cioè quando disobbedisco a Dio, quindi faccio una disobbedienza su una cosa che è prescritta dalla legge di Dio, ma in materia lieve. Oppure se anche fosse in materia grave, senza la piena avvertenza o il deliberato e o il deliberato consenso. Però la grazia può anche aumentare. La grazia aumenta se prego, la grazia aumenta se ricevo fruttuosamente i sacramenti. La grazia aumenta ogni opera buona che compio. La grazia non aumenta, anche se non diminuisce, quando io non assegno un'ispirazione. Non metto in pratica un consiglio. Non compio un'opera di perfezione. Facciamo un esempio. È appena finita la Quaresima. Cosa è prescritto durante la Quaresima? Lì bisogna farlo sotto pena di peccato. È prescritto che il mercoledì delle ceneri c'è digiuno e astinenza. È prescritto che tutti i venerdì di Quaresima c'è astinenza stretta dalle carni. Ed è prescritto che il venerdì santo è digiuno e astinenza. Chi non fa queste cose deve confessare, perché pecca. È chiaro che se uno vuole fare i grandi digiuni in Quaresima, non faccio soltanto il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo. Lo faccio tutti i mercoledì e i venerdì di Quaresima. Meglio. Chiudo la televisione. Meglio. Tutto a noi. Più se ne fanno di queste cose e più in alto si va in paradiso. Io da prete sono obbligato a dire queste cose qui, capite? Perché chi mi ascolta un giorno benedirà il giorno in cui mi ha ascoltato e chi non mi ascolta non potrà dire non lo sapevo. Perché un prete ha proprio il compito di aiutare le persone, quindi a formarle, ad avere un pochino di luce. La gloria eterna, riprendo la lettura, è una perfetta fraternità che si deve iniziare qui mediante la pratica della fraterna carità cristiana. E guardate che ogni volta che parla di carità cristiana, anche adesso, Teneramata farà una glossa che poi per i tempi attuali è quanto mai opportuna, molto più che per la fine degli anni 70, dove per la verità alcune tendenze che adesso sono diventate atavi, che erano già ampiamente, non solo in nuce, ma già sbocciate e cominciavano a dare primi frutti avvelenati. Mediante la pratica della fraterna carità cristiana, la gloria non si deve confondere con un amore esclusivamente umanistico, filantropico, potremmo anche dire massonico, che si pratica per una compassione o per un interesse puramente terreno. Per esempio, amerai il Signore Dio tuo sopra tutte le cose? È così? è ciò che farà nella tua vita futura. In questo consisterà la tua felicissima gloria essenziale. Vedete? Cioè, la carità cristiana, noi sentiamo parlare di carità cristiana e cominciamo subito a pensare, subito, alle opere buone verso il prossimo, alle opere di solitarità, anche alle opere sociali o cose di questo genere. La carità non è anzitutto questo. Il secondo comandamento viene dopo il primo. A catechismo, ecco che bisogna sapere il catechismo, dovremmo aver imparato quali sono i due precetti della carità. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la donna e con tutte le forze, cioè sopra ogni cosa e con tutto te stesso. E il prossimo tuo come te stesso. Non si può passare subito allo step 2. Perché oggi il primo comandamento non lo mette in pratica quasi nessuno. Qualcuno si illude di mettere un pochino in pratica il secondo perché fa qualche opera di volontariato o sociale. Poi bisogna vedere se lo fa per amore di Dio oppure, che ne so, per essere ammirato dagli uomini o per sue convinzioni appunto laiche. Ci sono tantissimi cosiddetti laici impegnatissimi in opere sociali. Alcune opere sociali distruttive, ma qualcuno ha anche opere speciali sociali buone, no? Se un laico si impegna, che ne so, ad andare a costruire un ospedale in Africa, qualcuno l'ha fatto, ha fatto un'opera buona, un'opera che tranquillamente potremmo fare anche noi. Ma lui l'ha fatto da laico e l'ha fatto per il suo senso filantropico di questi poveracci che stanno in condizioni igieniche precarie, ho un sacco di soldi, scelgo che una parte li investo per fare quest'opera buona. Il signor lo ricompenserà, non è che non lo ricompensa. Se non si convertirà e non raggiungerà la salvezza, insegna San Tommaso, lo ricompenserà con benefici temporali, cioè ha speso 500 milioni di euro e può assicurare che gliene farebbe il doppio. Può darsi. Quindi, ma in paradiso noi faremo anzitutto questo, perché la gloria essenziale del paradiso è l'amore di Dio. C'è anche la gloria occidentale, ma la gloria essenziale è l'amore di Dio. Comincia qui. Se tu non preghi mai, se non impari a pregare con la P maiuscola, rimando alle catechesi fatte anche non molto tempo fa sulla orazione profonda, sulla preghiera profonda, che è proprio una caratteristica imprescindibile per chi vuole vivere nella divina volontà, perché altrimenti le divine carezze, i divini abbracci non li guadrà mai, non li percepirà mai. Però questo è il primo comandamento, è quello che faremo dall'altra parte. Poi prosegue. Non ruberai, perché è stupido rubare ciò che in fin dei conti è nostro nel cielo, no? Che devi rubare. Già lo disse San Paolo, tutte le cose sono vostre, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Non mentirai? Così cominci ad abituarti alla veracità assoluta e gradevolissima in vigore della patria. Posso spendere una parola sul mentire? Noi figli cari dobbiamo metterci bene in testa che i figli di Dio non mentono mai. Significa mai? Mai. Fatemi scherzare un po', no? Ecco, ogni tanto posso essere tuo figlio spirituale Don Leonardo, dico, io rispondo sempre con la battuta di padre Pio, l'ho già detto altre volte, forse anche in questa serie di carattere, dico, 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 purché tu non mi faccia vergognare? Ecco, allora, solo adesso figlio spirituale di Don Leonardo impari subito due cose abbastanza frequenti in giro, che non si mente mai e non si dicono mai le parolacce, per nessun motivo, mai, se no niente figli spirituali, ma questo non è essere figli spirituali di Don Leonardo, questo deve essere figli di Dio. Mentire non si mente mai per nessun motivo, questo non vuol dire dire sempre a tutti tutta la verità, non mentire, non è dire sempre a tutti tutta la verità, perché non si può dire, se io un po' io non posso dire quasi niente delle cose che so, immaginate, no? Cioè, tutte le informazioni, non tutte, moltissime informazioni che un prete sa, sono riservate, sono, non le posso parlare con nessuno, soltanto col Santissimo Sacramento, sentimento. Eh, quindi, vi pare che una domanda diretta su quegli argomenti io posso rispondere? No, non posso farlo. Ma a parte il fatto che un prete ha la scappatoia, che se gli fanno per esempio una domanda, dice, ma che ti ha detto quello in confessione? Io posso rispondere senza mentire, eh? Non lo so, perché realmente non lo so, perché le cose che io so in confessione le so solo dentro il contesto della confessione, cioè se qualcuno mi fa una domanda fuori confessione, perfino il diretto interessato, su una cosa che mi ha detto in confessione, io devo mostrare esternamente che quella cosa la ignoro. Quindi, cioè, e qui mi aiuta la struttura, per esempio, del sacramento stesso. Ma, capite? C'è sempre un modo per non dire ciò che non si deve, cosa che non si deve fare, ma senza mentire, ciò che quello che dico è vero, sempre, anche se non è tutto. E poi c'è l'altro aspetto fondamentale della felicità, che è la fedeltà la parola data. Perché Gesù dice nel Vangelo che non giurate proprio? Che devi giurare a fare? Un figlio di Dio perché deve giurare? Se io ti dico una cosa, quella cosa è quella. Cioè, hai visto una testimonianza? Hai visto quella cosa è successa? Se io l'ho vista, dico di sì, punto e basta. Non c'è bisogno che giuro. Se io ti prometto una cosa, non c'è bisogno che giuro, perché quella cosa la farò. E non la farò soltanto per sopraggiungere un impedimento invincibile, indipendente dalla mia volontà, ma non serve che giuro. E così il turpiloquio non è mai in nessun modo, in nessun caso giustificabile, per nessun motivo. Mai. Non desidererai le cose degli altri. Ma perché invidiarla se in cielo non ci sono le cose degli altri. In cielo tutto nostro. Non ti importi se la volontà divina contraddice la tua volontà e il tuo benessere materiale. Vedete il collegamento con la tua volontà. non protestare, né ribellarti contro di essa. Contro la volontà divina non si protesta mai, figlioli miei cari. Mai. Qualunque cosa accada, qualunque cosa Dio permetta. Ma, e non so che non si protesta, non si chiede a Dio perché. Dio non è tenuto a dare ragione a nessuno di quello che fa. Siamo noi che dobbiamo rendere ragione di quello che facciamo a Dio, non viceversa. Non protestare né ribellarti contro di essa. Non fare un così mal negozio per la vita futura. e poi torno su un argomento già trattato. Non perdere inutilmente i preziosi spazi, i tempi della tua vita terrena perché il tempo impeccato mortale è tempo perduto. Qui domande in diretta, mail arrivate, cioè ricordiamo, abbiamo già parlato di questo, no? Tutto il tempo vissuto non ingrazia, non entra a far parte dell'eternità creata. Non entra. Perché il male è il non essere. E in paradiso il non essere non c'entra. Non c'entra né in paradiso, ma non c'entra neanche in quel paradiso accidentale, chiamiamolo così, che è l'eternità creata di una persona che raggiunge la salvezza. Se per i mondani il tempo è denaro, per i cristiani, quante prediche ho fatto, pure domenica scorsa, il tempo è felicità futura, cioè occasione di accumulare per il cielo. Per noi il tempo è altro che denaro, è più che preziosissimo. Una cosa che non ho fatto oggi, santa, che mi era venuta l'ispirazione di farla, la puoi fare domani. Sì, la puoi fare domani, ma se l'avessi fatta anche oggi, l'avrei fatta oggi e domani. Quindi c'è un redoppio merito. Se oggi non l'ho fatta e la faccio domani, il merito di domani c'è, ma il merito di oggi non c'è. Non c'è scritto nel libro. Il libro dell'Apocalisse dice che al momento del giudizio vengono aperti i due libri, quelli nostri, quindi il libro della nostra vita e il libro della vita, quello che c'è nostro Signore. Che c'è scritto sul libro della nostra esistenza? In base a quello che c'è scritto riceveremo la nostra ricompensa, sia nel bene che nel male, come dice San Paolo in una delle sue celebre lettere che io leggo sempre ai funerali. Tutti dobbiamo comparire davanti a Cristo per essere da Lui giudicati e ricevere la ricompensa delle opere compiute fino a quando eravamo nel corpo, sia nel bene che nel male. E per ragioni di stretta giustizia, perché merito e pena sono concetti legati alla giustizia, non alla misericordia. E la misericordia, di cui dobbiamo ringraziare tanto il Signore, non annulla la giustizia. L'ideale, guardate, se volete essere un pochino furbi, furbi santamente, o meglio sarebbe, noi dobbiamo dire al Signore, guarda, fammele pagare tutte, qui in terra. Io voglio la giustizia, non voglio la misericordia. Capite il senso in cui lo sto dicendo? La misericordia viene dopo. Non fare sconti con me. Ho sbagliato, mandami tutti i castigli che ritieni opportuni. Tutti, nessuno escluso. Io farò il possibile per fare quello che posso, per riparare e per espiarli. Fatto questo, oh, arrivi tutta l'altra misericordia possibile e immaginabile. Non il contrario. Questo atteggiamento sapiente e saggio. La misericordia viene dopo. Non come adesso viene presentata, è sempre un paravento. È un paravento per tutto e per tutti. È la prima cosa che si dice, viene offerta la misericordia anche a chi non riconosce il peccato e non vuole lasciarlo. La misericordia non funziona. La misericordia non viene data a chi non riconosce il peccato come peccato. Dice, vabbè, non riconosco come peccato, quindi mi confesso. Sì, ma quando ti confessi deve essere pentito. E se al sacerdote consta da elementi oggettivi che la persona non è pentita, la soluzione non la può dare. Non è che dici, ma è cattivo. Sant'Alfonso dice che pecca mortalmente un sacerdote che faccia questo. Perché? Perché illude il penitente di una assoluzione che Dio non dà. Noi siamo ministri dei sacramenti, non padroni dei sacramenti. Dio perdona chi è pentito. Io quando alzo il braccio e dico, t'assolvo le tue peccati, dico, io t'assolvo. È come quando consacro. Questo è il mio corpo, ma quello non è mica il corpo di Don Leonardo. Io non assolvo nessuno dei peccati. In quel momento è Cristo che parla in me. Ma Cristo non assolve da nessun peccato se non vede il pentimento. Chi dice sciocchezze su questo punto, si va da rileggere la vita di Padre Pio, che a differenza di un prete normale, che può non assolvere soltanto quando costato oggettivamente. Se un prete una persona va a dire che io non vado mai a messa la domenica, tu gli dici fino a questa domenica, ma dalla prossima c'è l'attenzione ad andare, non c'è nessuna attenzione ad andare. Non può dargli la soluzione. Se non c'è il proposito di riprendere e andare a messa la domenica. Non può. Noi, padre, io con la mia fidanzata abbiamo i rapporti prematrimoniali. Fino ad adesso, da domani in poi basta. E come basta? Se non basta, hai ricominciato a fare la gommina il giorno del matrimonio. Se non basta. La scelta deve essere chiara. Io vivo fino al matrimonio come Dio vuole. Poi che una persona ti capita un giorno storto, fai un'imprudenza, ti ritrovi da solo, in macchina o in casa e ti prende la passione e cadi. Questo è un altro discorso. Ma tu non puoi fare la scelta della non castità prematrimoniale e poi pretendere andare a confessare che c'è la soluzione. Anche se non convivi. Perché la convivenza rende semplicemente pubblica questa cosa. Cioè aggiunge alla fornicazione l'elemento dello scandalo. Cioè lo rende pubblico. Per questo che è ancora più grave. I concubini, si chiamano così, sono dei pubblici scandalizzatori. Anche se molti non ne sono consapevoli di esserlo. È per questo che non possono fare da padrino. Tutte queste cose qui, no? Che rimangono anche se in molti fanno finta che queste cose non esistono più. Facciano, facciano pure. Non ci si può prendere gioco di Dio. Guardate, il titolo dell'Ora Santa di ieri sera. Dio non si ride. Noi non siamo più grandi di Lui. Non siamo al di sopra di Lui. Siamo tutti quanti servitori. Inutili ma servitori. Non arbitri. Non siamo più grandi di Lui. Né arbitri, né tantomeno Padre Eterni. Siamo dei poveri uomini. Tutti. Ok. Quindi per noi cristiani, la vita terrena, il tempo è denaro. Certo, è denaro per... C'è occasione per accumulare il cielo. Per accumulare... Accumulare cielo. O accumulare per il cielo. Quanto sono deficienti, scusatemi, eh. Io ho fatto pure una bella predica, ormai famosa, la Domenica delle Palme, sta anche online. Ma dico, ma sei scemo? Ah, io lavoro sempre, pure la Domenica... Io nel posto dove sto, che è un posto turistico, la Domenica è... Cioè, è giorno di... Non solo di lavoro, ma di lavoro massacrante per molti. Vuoi continuare così per tutta la vita? E quando sei morto, che fai? Tu per il lavoro la Domenica non vai mai messa la Domenica? Vi racconti questo al nostro Signore? Eh, ma devo lavorare. Sicuro? Eh, il nostro Signore rispetta le nostre libere scelte, eh. Non le approva, quelle che non sono secondo la sua legge. Ma tu non sei soltanto un corpo. Le bare non ce l'hanno le tasche. I soldi non te li porti dietro. C'è gente, e dalle mie parti ce n'è tanta, eh. Veramente, zero assoluto. Cioè, voi pensate, conoscendo queste cose, c'è gente che ha 50 anni e eternità creata, accumulata, che c'era? Dal battesimo fino all'età della ragione. Dopodiché, zero assoluto, eh. L'occasione di accumulare per il cielo vuole e va via. Ogni lasciata è persa? Certo che ogni lasciata è persa, ma non come la intendono i pagani peccatori che la applicano alla lussuria. Quindi, se tu hai un'occasione per... Eh? Eh, non te la fa scappare. Per noi non è così. Se io ho un'occasione di fare un'opera santa, che sommata fammela scappare? Oggi potrei andare a messa e però c'ho sta cosa da fare. Vabbè, per un giorno non ci vado. Che succede? Allora, non succede niente, non succede. Cioè, quando uno fa il discorso ma per un giorno non ci vado, che succede? Non succede, sotto certi punti di vista, niente. Perché non fai un peccato, quindi non è un peccato non andare a messa in un giorno feriale. Però, sotto altri punti di vista, succede. Perché hai una grazia di meno. Perché una messa di meno sono grazie di meno. Chiaro, se una persona un giorno c'è un'impossibilità oggettiva, non è che uno vuole mettere in croce il prossimo. Cioè, io dico queste cose non per affliggere, ma per aiutare. D'accordo? Cioè, è una forma mentis che deve scattare, una forma mentis che non fa di noi delle persone ossessionate e fanatiche. No, no, tutto questo viene vissuto sempre con calma, con naturalezza, diciamo così, con scioltezza. In questi giorni, in diverse circostanze, sono stato chiamato in altri sedi a parlare della modestia del vestire per maschietti, femminucce e preti. E' chiaro che qui ci sono dei tassi di perfezione. Cioè, quando una persona capisce qual è la perfezione voluta da Dio nel vestire, non rimpiange quello che c'era. Fino a quando rimpiange quello che c'era, per esempio, prete, c'è la talare però, ve lo vado a farmi un viaggio perché almeno nel viaggio posso mettermi tranquillamente perché nel viaggio sto un po' più comodo. Non ha ancora raggiunto la perfezione. Se pensi questo, ancora, perché non ti viene neanche in mente quando tu questo, se tu hai raggiunto interiormente una perfezione. Ma dici, sai, ho imparato a vestire in un certo modo, quindi facciamo questo sforzo, però se me posso vestire un po' più casual, ma meno male, va? Stiamo ancora in cammino, stiamo. Ecco. Perché occasioni per il cielo vuolono e vanno via. Pertanto devi procurare che ti rimanga per sempre nella quinta dimensione il bene autentico, quello che si pratica, attenzione per amore al nostro Dio. Qui entra in ballo il discorso, per esempio, io ho esperienza su questo, della direzione spirituale, che io adesso sto con le antenne addrizzate perché vi posso dire, tanto non faccio nomi e cognomi, che io sono certo che sono quasi vent'anni di ministero, che diverse persone hanno fatto certe cose nella loro vita interiore non per amore di Dio, ma per amore mio. Per amore mio che intendiamoci, nel senso che ti riconoscono come autorevole e quindi tu dici una cosa e lo fanno così. Non va bene questo qui. Oppure constatavo che alcune cose le facevano solo in mia presenza. parliamo di altri contesti parrocchiali. Mi venivano a riferire, guarda, quando tu stai in parrocchia nessuno si presenta in canottiera e... ma quando tu vai fuori l'estate che ci stanno i tuoi sostituti si avrete da tutto. È brava, cretina. Non è che tu vai in chiesa vestita decentemente, quindi senza canottiera, perché sennò Don Leonardo ti sgrida. Perché non è che Don Leonardo ti sgrida perché è un esaurito. Don Leonardo ti sgrida perché in chiesa in quel modo il dì. Se tu entri in quel modo pecchi immortalmente e lo devi capire. Perché non è che se venga in un'altra chiesa o se Don Leonardo non c'è Dio diventa cieco. Dio ti vede sempre. Io questo ti devo insegnare. Quindi capite, no? Una persona che facesse offende anche me. Offende anche me perché cioè mi dà un'importanza che io non posso e non devo avere. Io ti dico quella cosa perché sono un ministro ma tu quella cosa la fai davanti a Dio e la fai e la fai per amore suo. Mi vennero a riferire tempo addietro siccome te ne leggo tante cose che dico come dire raccomando alle persone lo vedremo col prossimo ciclo di catechesi di Gloria Polo questo è un particolare Gloria Polo scriveve lo dico da prima che nel giudizio particolare che ha avuto il cibo non si spreca figlioli miei cari un chicco di riso Dio ne chiede conto io me lo ricordo quando una persona venne terrorizzata che aveva letto Gloria Polo io vado all'inferno dico ah l'inferno è successo che hai fatto io buttavo un sacco di cibo durante il mezzo da oggi in poi lo sai però tu non puoi cioè pranzo che ne so il compleanno di Don Leonardo oppure che ne so un evento ecclesiale un pranzo comunitario oh guarda se ti siete vicino a Don Leonardo mi raccomando mangia tutto perché se no lui ti rimprovera perché non ti lascia il cibo nel piatto ah è questo tu fai questo perché se no Don Leonardo ti rimprovera io se fossi in te farei questo se no vedi il purgatorio che te farai e te lo fai doppio se tu non fai questa cosa per Don Leonardo e non per amore di Dio doppio te lo fai il bene autentico quello che si pratica per amore al nostro Dio solo quello Dio riconosce e accetta il più che tu possa compiere in questa successione di spazi tempi fuggitivi il più il massimo mi ripeto adesso abbiamo la possibilità di andare al massimo andare al massimo non come cantava uno sciagurato cantautore andare al massimo verso il cielo come andava al massimo la Madonna io dico sempre la Madonna nel campo spirituale sta alla guida qual è l'ultima Ferrari che costerà un milione di euro lo so che va come che chi lo sa che c'ha sotto la Madonna sta sempre a tavoletta sulla più bella Ferrari che esiste la vita della Madonna era quella stava sempre in cima in ogni istante lei stava sempre agendo per la massima gloria di Dio non per la maggior gloria di Dio la massima ecco perché la piena di grazia ecco perché dietro la Madonna non ci può stare proprio nessuno adesso non dico non ci vuole facciamo arrivare a tanta perfezione però dobbiamo sapere ricordare il più che tu possa compiere in questa successione di spazi tempi fuggitivi in tutti i modi possibili c'hai soldi fai tante lemosine se vuoi un consiglio spazionato c'hai tempo fai tante opere buone prega mettiti a servizio del prossimo fa quello che te pare non lo sprecare proseguo sempre la lettura hai intravisto la maestosità della quinta dimestizione e hai appreso l'immenso valore di ciascun atto della tua vita conservato eternamente e con tutta fedeltà nel suo corrispondente spazio tempo e già sai che ti è possibile annientare i tuoi peccati per mezzo del sacramento della riconciliazione attenzione a questo termine annientare i peccati allora chi non si confessa è uno sciocco perché per annientare i peccati c'è solo un sistema la confessione che la fai dal confessore e attenzione quando la confessione non è fatta bene quindi che i peccati non li chiamo tutti per nome e cognome quelli mortali chiaramente nome cognome data di nascita luogo di nascita residenza indirizzo piano interno scala cellulare mail e sito web tutto cioè dei peccati mortali bisogna dirli tutti è bene e quando si fanno le confessioni prepararle bene specialmente su certi argomenti chi può capire capisca perché padre Pio e don Attilio Negrisolo hanno lasciato detto ai sacerdoti chiedete di tutto su questa materia ma è molto difficile farlo perché si tratta di roba scabrosa quindi è bene che il penitente se ha qualche cosa che gli rimorde la coscienza su queste materie si arma di desiderio di umiliazione e di vergogna e lo dice lui quello che ha fatto chiamandolo per nome cognome ripeto luogo e dalla dinascita indirizzo numero di telefono interno scala mail e sito web altrimenti i peccati non sono distrutti rimangono dirò probabilmente la domenica cioè se tu c'è un tumore un tumore di quelli che si operano tu devi operare e lo devi togliere il tumore se no quello produrrà metastasi e tu starai male se tu in confessione non porti i peccati tutti e bene tutti e bene tu stai male la gente sta male per un solo motivo ma guardate che il peccato è l'origine di tutti i mali anzitutto quelli psichici e spirituali il malessere la depressione le ossessioni ce ne stanno quante ne volete in giro ma anche le disgrazie le malattie provengono tutte dal peccato tutte nessuna escluse se tu ti lasci quelle cancrene e attenzione se tu i peccati non li porti in confessione tu la fabbrica del male ce l'hai dentro di te tutto il giorno capito è come se dentro ci avessi delle piaghe fetite e produttrici di pus che stanno continuamente attossicandoti la gente non si rende minimamente conto di queste cose qui poi però mi sono tutto storto non sto mai tranquillo disgrazie cose io sono repertorio insomma veramente quando sento certe storie sono allucinanti ma le storie più allucinanti le sento sarà una coincidenza da persone che hanno completamente dimenticato la vita della grazia che esiste con Dio che ci stanno i sacramenti che stanno lontani e si autocondannano ad una vita scusatemi proprio da schifo veramente che poi il diavolo ci soffia sopra e dice sparate ammazzate che razza di vita è sacramento della riconciliazione quindi vedete che tutta la lezione che ha fatto tenera amata non serve a nient'altro che a provocare una vita cristiana perché tutte quante quelle cose belle tu te le scordi se non vivi in grazia e ne godrai in maniera limitata se non raggiungi un elevato grado di gloria proseguo dice sempre lei infine è molto conveniente perché tu goda e faccia godere altri di una maggior gloria accidentale nell'aldilà che accumuli nella quinta dimensione molti atti di fede e di amore di carità come ben sappiamo questo non sarà soltanto godimento maggiore per noi ma sarà godimento maggiore pure per gli altri e godimento maggiore per gli altri vuol dire che ci ameranno di più anche gli altri come siamo dall'altra parte quindi godremo anche di più dell'amore accidentale degli altri che ci ameranno di più perché grazie a quello che abbiamo fatto li facciamo godere di più essi li serviranno nel cielo come appoggi per sostenere l'immenso e dolce peso dell'amore divino verso di te atti di fede vedete che la fede è una virtù di te e la fede è una virtù la grande fede la fede divina e cattolica quante volte cioè le verità di fede noi dobbiamo conoscerle a mena dito non avere nessunissimo dubbio su nemmeno una virgola delle verità di fede di virgola la trinità la divinità di Gesù Cristo la costituzione divina della chiesa il fatto che la chiesa è una santa cattolica apostolica chi è l'uomo cosa è il peccato originale che cosa è la morte cosa si aspetta dopo la morte l'esistenza degli angeli degli angeli ribelli l'inferno il purgatorio il paradiso gli dogmi mariani la virginità della Madonna tutto questo qui cioè il fatto che Dio premia i buoni e castiga i cattivi il fatto che ci scorre ci siamo detto questa sera ogni opera buona che faccio aumenta la grazia ogni imperfezione non la fa aumentare il peccato veniare la fredda il peccato mortale la fa perdere i peccati si distruggono soltanto con la confessione i sacramenti celebra cioè su queste cose qui dobbiamo essere assolutamente ferrei forgiati poi c'è anche quella fede esistenziale quindi quel 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 vivere di fede Giustus ex Fide vivit scrive San Paolo vivere di fede sempre con una grandissima sempre con un grandissimo quella fede che proprio porta all'abbandono quella fede che non porta mai a disperare anche dinanzi alle situazioni più più gravi quella fede che porta ad essere fedeli sempre alla verità e a non sottomettersi a nessuno che che vada contro la verità quella fede che ti va a sfidare il mondo intero che c'è che se tu capisci che una cosa Dio la vuole o non la vuole io quella cosa se Dio la vuole la faccio se Dio non vuole non la faccio posso volare tutto l'altro mondo contro non me ne importa niente eh provate a vivere così poi è stupendo vivere così è bellissimo e procurerà una grandissima gloria prosegui te te ne l'amata la certezza morale della quinta dimensione nel ricordare la sopravvivenza del tuo essere integrale e delle tue buone azioni immagina una buona azione che rimane per sempre ci potrai tornare la potranno vedere anche gli altri adesso molte buone azioni si diceva nel segreto tra noi e Dio eh ma dopo e quanta gloria ti verrà da tante buone azioni che tu hai fatto in segreto che magari nessuno si immagina le preghiere per esempio che uno ha fatto per i propri nemici sai la faccia che faranno quando quelli dicono ma guarda io sono stato così una carogna con questo con questa con tutto quello che gli ho fatto che stava pregando per me tutti i giorni eh insomma no? la certezza morale della quinta dimensione nel ricordare la sopravvivenza del tuo essere integrale e delle tue buone azioni alimenterà in te la speranza perché quelle opere virtuose dice te l'amata che tu hai lasciato custodite come pegni di felicità futura nel magazzino del tempo passato diventeranno per te per i beati con i quali sarà il rapporto di amore meravigliosi tesori di gloria accidentale nella beatitudine capito? cioè tu fai un digiuno adesso che ti costa perché soffrirai ma ogni minima cosa di questo ti torna non soltanto in gloria futura quindi in meriti ma nella gloria accidentale quindi in quello spazio tempo in quel giorno in cui hai fatto quel digiuno quando ci torni quel digiuno si trasforma in in cosa? ah in tanta roba tesori accidentali tesori di gloria accidentale nella beatitudine devi convincerti che il gran peccato dell'umanità cominciamocene tutti consiste nel disprezzo e nella dimenticanza del nostro Dio ecco la gente a cui sono stato mandato la fotografia il disprezzo e la dimenticanza non ci pensano proprio la dimenticanza si sono dimenticati che Dio che Dio esiste che c'è un Dio o proprio il disprezzo a Roma dicono un'espressione che non si può tanto ripetere perché il termine in realtà è un'allusione ad un fatto volgare quindi la posso dire soltanto in come dire civilizzandola a Roma dicono non gliene può importare di meno non è proprio questo il termine ma quell'altro termine non sta bene né sulla bocca di un sacerdote né anche sulla bocca di una persona comune anche se molti non sanno che significa però è una volgarità quindi è meglio non dirlo è così però questo è il grande peccato la il disprezzo e la dimenticanza del nostro Dio e e nel metterlo in disparte nei vari amori ideali progetti e attività via in disparte nei vari amori c'è gente che non sa neanche che cos'è l'amore di Dio quando noi siamo stati creati anzitutto il primo comandamento quando ci dicono qual è il comandamento più grande della legge ascolta Israele il Signore è il nostro Dio il Signore è uno solo tu amerai il Signore Dio con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima con tutte le tue forze noi siamo stati creati per questo e c'è gente che non sa neanche lo stato di casa questo metterlo in disparte nei vari amori ideali ideali le cose le grandi scelte che muovono la tua esistenza una persona che c'è grande se a te ti chiedono ma tu che campi a fa che gli rispondi una persona che c'è grande che campo a fa io campo che diventa santo lo so che sto lontano anni luce però ci provo non desidererei nient'altro che questo grandi progetti fai il grande progetto fare esattamente tutto quello che ti ha pensato per me alla lettera a un fine minimi dettagli attività tutto sempre e solo sotto gli occhi di Dio per la sua gloria per piacere a lui sempre e dovunque e comunque fine questa è la vita di un cristiano ma così non è per molti per troppi i problemi tuoi e della società non si risolveranno né con il capitalismo né con la democrazia né col comunismo né con l'umanesimo per quanto sia cristianoide di questo umanesimo cristianoide oggi siamo completamente guardate circondati e l'umanesimo cristianoide oggi è propugnato da chi dovrebbe predicare il cristianesimo agli umani troppo umani che girano senza l'aiuto del nostro Dio niente di buono si può fare ci dà il Vangelo senza di me non potete fare nulla sottointeso dice San Tommaso di buono non bastano le sagge legislazioni o le normative precise a poco valgono le promesse demagogiche le suggestioni collettive non ci salvano i politici il perfido egoismo porta tutto al fallimento individui famiglie condomini sindacati scuole comuni stati nazioni e il mondo in genere orbene l'antitoto dell'egoismo non è l'elemosina esclusivamente materiale e neppure il distribuire beni spirituali per un motivo semplicemente umanitario faccio una scuola perché l'istruzione è un bene oggettivo no questo non è l'antitoto dell'egoismo secondo Terena Amata ma secondo il Vangelo non secondo Terena Amata comunque qui Terena Amata si fa del Vangelo osserva osserva quanto avviene nella nostra patria terena scusate osserva quanto avviene nella nostra patria terrena lui sta dicendo adesso sta parlando del Messico no egoismo ambizione superbia apatia corruzione vanità di ricchi di poveri perché pure i poveri sono vanitosi sta affogando la società in una terribile crisi di impoverimento di inflazione di svalutazione del denaro mancanza di lavoro angoscia pericolo di guerra l'antitossina dell'egoismo è compiere la legge del Signore per amore a lui voi pensate questi stati che si sciacquano la bocca lo stato di diritto lo stato laico lo stato degno di questo nome è quello in cui Cristo regna la legalità sociale di Cristo compito dello stato immaginate se qualcuno sente queste cose qui le metteranno in croce prima del tempo è promuovere l'osservanza della legge di Cristo non fare leggi che sono contra la legge di Cristo perché ah ma lo stato è laico quindi se tu c'è questa convenzione di fede te la tieni per te ma io non ci credo e quelli che non ci credono possono fare anche altro siamo sicuri che funziona così? vai dopo guarda che bello che è il mondo che stanno costruendo diamoci un'occhiata in giro il mondo senza Dio la famosa diffusione degli errori del comunismo di cui parlava la Madonna Fatima non è che il comunismo regna in tutto il mondo ma è che ciò che il comunismo ha insegnato come suo valore fondante cioè costruisci la terra senza Dio perché l'uomo è infelice perché c'è chi c'è i soldi e chi non c'è di ha allora devono averci tutti quanti gli stessi beni non ci devono essere disuguaglianze e così avremo realizzato il paradiso sulla terra a Dio lascialo perdere che per queste cose non serve in due parole questo dice il comunismo ma questo adesso viene fatto dappertutto adesso non c'è più come dire l'uguaglianza sociale adesso c'è dobbiamo garantire a tutti di fare il porco comodo loro perdonatemi ma qui ci vuole questa espressione d'accordo strainfischiandosi di tutto di tutto cioè di che ne so di pubblica decenza di pubblica cosa d'accordo salvo che non si vengano non vengano commessi omicidi poi però come dire i feti e gli anziani in fin di vita non sono omicidi quelli che si possono fare questo stanno costruendo l'antitosina dell'egoismo è compiere la legge del Signore e farlo per amore a Lui non per compiacere qualche oracolo anche se fosse un suo ministro e per trovare le sue grazie diciamo così è necessario è urgente dunque fare appello con fede all'altissimo con amore di carità con il compimento fedele dei suoi comandamenti con la speranza messa nel ricchissimo cielo che hai appena intravisto con la mortificazione volontaria mi trovate qualche qualche vescovo qualche prete che fa qualche bella predica su questa almeno in quaresima mortificazione volontaria mortificazione volontaria cioè tu scegli di darti la morte tra virgolette morte in facile in latino faccio la morte a cosa ai sensi e alle passioni si sente spesso dire in giro spero di che le sento solo che non le senta nessuno non dobbiamo fare nessuna mortificazione ma che siamo matti ma che stai fuori di testa ma ha già sofferto tanto nostro signore che di soffri pure tu è pace che lo dicano i raici ma pare che a volte lo dica anche qualcuno che sarebbe meglio che se proprio mortificazione volontaria come prova di volere lui solo a me non me ne importa niente di nessuno io posso non mangiare posso soffrire nel corpo chiudo la televisione chiudo lo ster vuoi che faccio questo io butto il rutto domani non me ne importa niente se sono cose che nell'ambito del lecito tu mi concedi e che io so moderare le vivo come tuoi ti amo ma se devo fare il lockdown totale dall'oggi al domani lo faccio seduta stante non c'è niente di queste cose che mi domina ecco la mortificazione volontaria come prova di volere lui solo e infine con la preghiera fiduciosa e perseverante ecco qui il programma di santificazione questa è l'antitossina dell'egoismo ripeto così concludiamo questa puntata che tempo sta per scadere antitossina dell'egoismo è compiere la legge del Signore per amore a Lui fede nell'altissimo amore di carità compimento fedele dei Suoi comandamenti speranza cioè la speranza vuol dire che abbiamo trasferito la nostra vita i nostri sogni nel cielo che attendiamo e che è appena intravisto mortificazione volontaria e preghiera fiduciosa e perseverante con il dovuto rispetto la Madonna sono 200 anni abbondanti che sta dicendo queste cose in tutte le lingue del mondo perché passa in diversi e in tutte le salse c'era una detta anche teneramata ad abundansiam ecco speriamo che qualcuno dinanzi a tanta grazia e a tanta copiosità di fonti abbia il senno l'intelligenza di metterle in pratica ci vediamo credo per l'ultima puntata perché mancano ormai tre paginette di congedo la prossima volta che Dio vi benedica e che la Santa Vergine sempre vi protegga e che la Santa Vergine